come cdc è un po' di spazio aspetta non si vede pure l'alla guarda bene che mi devo vedere come poche cose facciano reprendermi... ... apri legami.. ... ... ... ... ... ... ... la parola per il pacchetto cacca ho trovato il pubblico non riesco a cambiare la luce e io ho un'occasione non va bene mi trova a parte di tutti mi chiedi da quello in canta assente